Massimiliano Gallo, chi è, età, carriera, chi la moglie, vita privata, figli, Instagram. L'ultimo lavoro di Massimiliano Gallo lo vede protagonista nella fiction in onda dal 20 ottobre su Rai 1. Nei panni di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso. Si tratta di una serie di otto episodi diretta da Alessandro Angelini. Nei quali accanto a Gallo ci sono, fra gli altri, Denise Capezza, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo, Lina Sastri. Massimiliano è legato sentimentalmente da diversi anni con la modella brasiliana Shalana Santana. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, i due si sono incontrati a cena ed è nato l'amore. Ma Gallo era già stato sposato con Anna dalla quale ha avuto una figlia, Giulia che oggi ha 19 anni. Finito il primo matrimonio, Massimiliano ha letteralmente perso la testa per Shalana. Una bellissima donna che ha iniziato la sua carriera come modella che è arrivata in Italia insieme al suo compagno di allora, Alessandro Lukacs dal quale ha avuto un figlio. Massimiliano ha un profilo Instagram, et Massimiliano Gallo che conta oltre 87.000 follower. Sul suo profilo posta tante foto di lavoro, ma anche immagini di amici e solo qualche fotografia della famiglia.